ragazzi buongiorno a tutti oggi vediamo un'altra potatura una potatura abbastanza impegnativa quindi ci vogliono i guanti perché andiamo a potare il melograno il melograno ha delle spine molto dure e appuntite di conseguenza è bene premunirsi con dei guanti allora facciamo una piccola premessa vi faccio vedere la potatura però questo melograno qui è nella zona del giardino di conseguenza io devo curare l'aspetto più che altro estetico più che quello produttivo perché deve avere una bella forma una forma palloncino che non è magari una forma interessante per quanto riguarda la coltivazione quindi se dovessimo fare dei frutti però vi dico giusto due linee guida indispensabili allora innanzitutto il melograno non è una pianta ma è un arbusto è una pianta che tende a fare il cespuglio di conseguenza noi dobbiamo andare a combattere questa tendenza che ha la pianta il melograno non è una pianta ma è un arbusto è una pianta e la pianta la pianta il melograno non è una pianta andiamo a farla andare in altro con un tronco ma in realtà non è la sua natura qui abbiamo due tronchi perché come vi dicevo prima deve essere una cosa estetica visiva in questo contesto di conseguenza io la sto coltivando in questo modo attenzione partiamo innanzitutto dato che è un cespuglio tende a fare tanti getti basali e sono questi qui tutti i getti giovani questi vanno eliminati tutti il tronco deve essere sempre bello pulito e non ci devono essere altre derivazioni via tutto quindi una volta puliti i getti basali del tronco andiamo a pulire anche tutto ciò che si sviluppa sul tronco stesso il tronco deve essere sempre ben pulito sia per il punto di vista estetico che soprattutto per la produzione quindi tutti questi getti qui via tutto tronco bello pulito eccoci qua quindi adesso andiamo a capire dove il nostro melograno andrà a fruttificare e quali sono i rami sconvenienti quindi quelli che non fruttificano che ci portano via tanta energia tanto nutrimento i rami doveva fruttificare il melograno o meglio a fare i fiori e poi a fruttificare sono questi rami di più anni di due o più anni tutti frastagliati legno abbastanza scuro e tutte queste gemme piuttosto cicciotte a differenza di quelli dell'anno che tendono andare verso l'alto in maniera molto vigorosa qua ne vediamo uno vedete questi succhioni qui questi sono rami giovani d'accordo che andranno a portare frutto prima o poi però ora che questo ramo qui va a portare frutto passeranno diversi anni e sarà finito su 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 in alto in alto in alto quindi questi li dobbiamo andare a tagliare dobbiamo andare a lasciare questa parte qui e cerchiamo di lavorare quando andiamo a svecchiare andiamo a lavorare su questi rami qui per esempio qui abbiamo un rametto giovane vedete com'è chiaro lungo sembra quello che abbiamo visto prima forse ci stanno tracciando stacca stacca che sorge su uno più vecchio quindi possiamo fare un'operazione di questo genere facciamo un taglio di ritorno in modo da togliere una parte che potrebbe essere produttiva però è vero che noi dobbiamo guardare la produzione ma dobbiamo guardare la produzione anche nei prossimi anni quindi questo potrebbe essere un rinnovo della produzione per i prossimi anni tutti questi vanno tutti asportati completamente dalla base quindi avanti prima tutti quelli più piccoli con la cesoia in modo da pulire bene la branca principale successivamente questi qua più grossi utilizziamo un troncarami sempre bello a filo rispettando il colletto della corteccia guardate qua è al primo anno ed è più alto di me ora che fruttifica questo ci vuole l'autogru per andare a prendere i frutti e ci avrà preso tantissime energie avrà fatto impoverire la parte bassa della pianta che è quella che ci interessa adesso e ci avrà portato la fruttificazione in alto facendoci perdere anche degli anni tuttavia facendoci perdere anche la parte bassa della città della città della città della città di vedete anche qua in alto su questi rami qui questo è un ramo già più interessante perché va verso il basso anche se magari non sarà produttivo quest'anno perché i rametti sono abbastanza giovani sarà sempre meglio di questi due qui quindi li togliamo e cerchiamo di mantenere la pianta in questo modo quindi verso l'esterno togliamo anche un po' di rami che vanno verso l'interno tipo questi in modo da tenere come sempre la nostra bella chioma libera e via il lavoro da fare principale è questo inoltre poi come potete vedere il ramo del melograno tende a affollarsi molto in questo modo noi andiamo leggermente a schiarire sempre alla base evitiamo di fare tagli di ritorno su questi rametti qua perché fa rami abbastanza corti quindi magari ogni tre ne togliamo uno facciamo in questo modo dando la precedenza a togliere quelli che vanno verso l'interno o quelli troppo scarsi che vanno verso il basso inoltre ovviamente non ve lo dico neanche più bisogna togliere sempre la roba secca se troviamo qualcosa di secco eliminare questo va bene questo qua ci farà da rinnovo per i prossimi anni togliamo però questo è qua uguale abbiamo questo che va verso l'interno qualcosa di rinnovo qua ce l'abbiamo evitiamo di andare a cimare questi perché se no riparte a fare succhioni in una maniera tremenda quindi puliamo un po l'interno puliamo un po i rami questo ramo qua per esempio se dovessimo tenere la pianta solo per la produzione questo qui lo andremo a togliere perché questo qui ci va proprio in mezzo alla chioma e ci dà fastidio io invece come vi dicevo prima ho bisogno di questa pianta anche per un discorso estetico quindi gliela vado a lasciare per evitare di svuotare troppo la parte interna se non ci interessa la parte estetica chiaramente questo qui l'avremmo tolto e avremmo lasciato tutte le branche che vanno verso l'esterno questi due qui si incrociano chiaramente non va bene due rami che si incrociano non vanno mai bene andiamo a preferire quello che va più verso l'esterno più vigoroso quindi questo eliminiamo schieriamo un attimo qua possiamo fargli un taglio di ritorno su questo in modo da spingerlo andare verso fuori e andiamo avanti con la nostra pulizia bene ragazzi vedete in sostanza è questo quello che dobbiamo fare andiamo a pulire leggermente l'interno della chioma andrebbe pulito di più per fare produzione io la devo tenere un po così diciamo compatta in modo da salvaguardare il discorso estetico io direi che abbiamo questo ramo qui che è proprio fuori chioma quindi come ultimo taglio direi di tagliare via questo e vedete il risultato abbiamo comunque un ramo all'interno che lo tiene pieno tutti i rami verso l'esterno anche questo in produzione sarebbe l'ideale toglierlo così come questo e diciamo che per quest'anno con il melograno ci siamo per questo video è tutto se avete delle domande scrivetemele nei commenti ci vediamo nel prossimo video un saluto dal contadino Nick ciao 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 ciao